A fine marzo 2013 decadranno gli organi in carica delle province italiane, lo prevede un emendamento del governo alla manovra, per il presidente della provincia Podestà è solo fumo negli occhi. Buonasera dalla TGN, dunque come avete sentito dal primo dei nostri titoli, la manovra Monti eliminerà i consigli provinciali a partire dal primo aprile del 2013, a Palazzo Isimbardi è scattata la rivolta dei consiglieri che criticano la norma e sostengono l'incostituzionalità del provvedimento. Massimo Scarizi. Il 31 marzo 2013 non esisteranno più i consigli provinciali in Italia, un emendamento alla manovra del governo Monti attualmente in discussione alla Camera dei Deputati ne propone lo scioglimento definitivo entro quella data. Una norma transitoria interesserà poi le sei province italiane in scadenza la prossima primavera che in attesa della legge attuativa che trasformerà le province in enti di secondo livello entro dicembre 2012 saranno commissariate. Una decisione che non trova d'accordo le forze politiche che siedono a Palazzo Isimbardi. Il presidente Guido Podestà si è scagliato contro l'emendamento che colpisce le province ma non propone una vera riforma degli enti locali. Critico anche il presidente dell'Aula di Palazzo Isimbardi Bruno Dappei che parla di profili di incostituzionalità. Quello che a noi interessa è collaborare perché vi sia una riforma positiva di quello che è appunto l'insieme degli organismi perché stiamo toccando 100 province ma ci sono 4.500 enti intermedi, gli altri 4.400 ce li dimentichiamo. Leggere che un governo tecnico con un decreto interrompe il mandato elettivo dei consigli votati dai cittadini lo troviamo totalmente anticostituzionale. I dubbi sono molti anche a sinistra. Chi si occuperà delle competenze e dei poteri attualmente nelle mani delle province? È questa la domanda che ripetono i consiglieri. In molti parlano di scelta demagogica e sventolano la loro busta paga circa 1.500 euro netti al mese, uno stipendio che non si può certo definire da casta. Tutto quello che ci interessa capire è quale sarà l'assetto perché si può dire tranquillamente si chiudono le province. Bisogna capire però le varie competenze che oggi sono ai mesconosciute ai più che fine fanno. Quindi chi si occupa di scuole, chi si occupa di strade, chi coordina la mobilità. Secondo me questo è l'elemento importante. Premesso che appunto come Italia dei Valori, come tanti altri di Italia dei Valori ho partecipato ai banchetti per raccogliere le firme per l'abolizione delle province e come consigliere provinciale ho autenticato circa 4.000 firme. Ciò premesso non credo che si possa fare una riforma istituzionale per decreto.